Amici e amiche carissime, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi da Madonna negli iscritti di Maria Valtorta, che ci sta accompagnando in maniera particolare, insomma allietando per questo mese di maggio, come tutti quanti sappiamo, dedicato a Maria Santissima, quindi non c'è momento più opportuno per continuare ad approfondire l'incanto che è la figura di Maria attraverso questa rappresentazione al vivo che ci danno questi splendidi iscritti che stiamo vedendo, leggendo e commentando insieme. Questa è la puntata numero 37, la volta scorsa ci siamo lasciati con il bellissimo episodio di Maria Santissima che intercede a modo suo per una grazia straordinaria e strappata a Gesù in favore di Simon Pietro, una grazia che lui aveva provato a chiedere di persona a Gesù, alla quale Gesù aveva posto un diniego motivato da ragioni ben solide che però la Madonna riesce ad ottenere facendogli vedere le cose a Gesù da un altro punto di vista, insomma, no? Quindi è un episodio molto molto grazioso. Ora abbiamo una serie di ulteriori episodi che sono una variante su questo tema, una variante evidentemente meravigliosa, che ci gustiamo pieni di gioia. Riprendo la lettura proprio da dove ci siamo fermati la volta scorsa, per chi ha il testo originale, siamo a pagina 340. L'efficace e direi la magica realtà di questo segreto, il segreto di Maria e del suo potere nel ottenere grazia verso il cuore di Gesù, appare in modo manifesto da vari altri episodi riferiti nell'opera. Riportiamo qui i più significativi. Si presenta un giorno a Gesù una povera madre con un bambino paralitico sulle braccia. Maria le va incontro, prende quel bambino fra le sue braccia e si presenta al figlio. Si inginocchia e dice, figlio, per questa madre, non altro. Gesù sorride e rivolta la mamma del piccolo paralitico e dice, donna, vieni qui. La donna va, Gesù le pone una mano sulla testa e dice solo, sii lieta. E ancora non ha finito di dire la parola che il fanciullo, fino allora steso pesantemente sulle braccia di Maria e con le gambe e i sondoloni si siede di scatto e con un grido di festa, mamma, corre a rifugiarsi sul seno materno. I gridi di Osanna sembra vogliono penetrare nel cielo tutto rosso nel tramonto. La donna col figlio stretto al cuore non sa che dire e lo chiede, che devo fare per dirti che sono felice. E Gesù carezzandola ancora. Essere buona, amare Dio e il tuo prossimo e allevare in questo amore il figlio tuo. Ma la donna non è ancora contenta. Vorrebbe, vorrebbe. E infine chiede, un bacio tuo e di tua madre il mio bambino. Gesù si chinelo bacia e Maria pure. E mentre la donna va via felice, fra un codazzo di amici e clamanti, Gesù spiega alla padrona. Non è occorso di più, egli era nelle braccia di mia madre, anche senza parola l'ho resanata, perché ella è felice quando può consolare un'afflizione ed io la voglio fare felice. E fra Gesù e Maria va uno di quegli sguardi che solo chi li ha visti li può capire. Tanto sono profondi di significato. Ecco, un piccolo commento a questo brano che abbiamo appena letto. Lo possiamo proprio fare partendo da questa ultima considerazione della scrittrice che vede e nota questo particolare e grazie a Dio lo riportano. Fra Gesù e Maria va uno di quegli sguardi che solo chi li ha visti li può capire. Tanto sono profondi di significato. Chi è che conosce e capisce bene Gesù e il suo cuore? Questo noi ce lo dobbiamo chiedere. Noi, io, te che stai ascoltando, quanto conosciamo Gesù? Bene. Sapete che molte volte noi mortali, noi esseri umani, abbiamo un problema abbastanza serio che ci facciamo delle immagini di Gesù, di Dio, più o meno aderenti alla realtà, ma non sempre fedeli a ciò che Gesù è, a ciò che Dio è. Chi è Gesù lo conosce molto bene, lo conosceva molto bene evidentemente Maria Santissima. Ma anche Maria Santissima, anche tra noi mortali e anche in tanti ambienti di Chiesa, siamo sicuri che abbiamo un'idea adeguata di chi sia Maria Santissima. In questi tempi, insomma, sembrerebbe essere un pochino prevalente una sorta di minimalismo mariano, che non è che sia proprio molto opportuno. Si tende a minimizzare la figura della Madonna, nel timore che, dandole troppa importanza, dandole troppa considerazione, in qualche modo si venga a sminuire la figura di Gesù. Siamo sicuri che questo corrisponde alla volontà di Dio e corrisponde ad una conoscenza esatta di ciò che Maria Santissima è, quello che per esempio emerge da questi scritti, ma non solo da questi scritti, quindi grazie a Dio insomma, è tutt'altro. È una grandezza non concepibile a mente umana di Maria Santissima, una grandezza che è da un lato semplicissima, dall'altro immensissima, e un ascendente enorme presso il cuore di Gesù. Le parole che Gesù dice non ne ho accorso di più, egli era nelle braccia di mia madre, anche senza parola l'ho resanato perché ella è felice quando può consolare un'afflizione, e io la voglio fare felice, quindi Gesù vuole fare felice la Madonna. Dietro molte cose che la Madonna è, c'è proprio quel voglio, perché la Madonna, appare anche questo, lo vedremo sicuramente in alcuni passaggi sentiti di Maria Valtorto. Per quello che dipende da lei, se dovesse dipendere solo da lei, la Madonna vorrebbe scomparire, ma la volontà di Dio non è in questo senso, e quindi la Madonna non può e non deve scomparire, sarebbe veramente un disastro per tutti noi se la Madonna scomparisse, anzi, più di qualche volta la Madonna non soltanto deve proprio apparire, quindi non soltanto deve esserci e non deve scomparire, ma deve apparire perché possano compiersi per sua intercessione, per la sua opera, per la sua azione, i disegni dell'Altissimo. Non perché la sua azione sia assolutamente imprescindibile e indispensabile, ma perché Dio vuole che alcune cose si facciano attraverso la sua presenza, attraverso la sua intercessione, attraverso la sua azione. Ecco, questa è una prima doverosa considerazione mariana, siamo nel mese di maggio, quindi mi sembra quanto mai opportuno. Un altro episodio, siamo nel terzo anno della vita pubblica di Gesù. Otto apostoli insieme a Giovanni di Endole e Sintica, incaricati da Gesù di preparare l'emangelizzazione e l'Asia minore, salgono su di una barca nel porto di Tolemaide e si dirigono verso Tiro. Mentre la barca prende il largo, incomincia a piovere e un vento sincopato viene a torturare i poveri naviganti e a spingere la barca verso gli scogli del capo ormai prossimo. Giunti finalmente al capo, pensano di interrompere il viaggio, ma predomina il concetto che si deve ubbidire al maestro anche contro il buon senso e lui ha detto che si deve arrivare a Tiro tutto in una giornata. E vanno. Il mare si calma all'improvviso, notano il fenomeno e Giacomo D'Alfeo dice il premio dell'ubbidienza. Proseguono verso Tiro. Giovanni di Zebedeo alza il capo al cielo, guarda e ride d'improvviso, apre la bocca al canto, secondando il moto del remo con la strofa e ritmando questa con quello. Ave stella del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù, spera in te il navigante, sogna a te chi soffre e muore, raggia stella santa e pia a chi t'ama con Maria. Tanta voce spiegata e tenorile, beato. Ma che fai? Parliamo di Gesù e tu parli di Maria? Chiede suo fratello Giacomo. Lui è in lei e lei è in lui. Ma lui c'è perché c'è stata lei. Lasciami cantare e cita dentro trascinando gli altri. Giungono a Tiro così ed è comodo lo sbarco nel porticciolo. Quindi si vede, l'episodio prosegue, facciamo una prima sosta. San Giovanni è l'innamorato di Maria. Tra l'altro vi posso dire che non sapevo che questa sera lo scritto ci avrebbe portato a questa frase di San Giovanni, ave stella del mattino, ma il canto che ha introdotto questa catechesi, un bellissimo canto che si chiama appunto stella del cielo, stella del mattino, madre del cielo, stella del mattino, con un canto il tuo nome Maria. Cioè è esattamente quello che San Giovanni ha fatto, insomma, che ha come un canto il tuo nome, ha cantato, si è inventato un canto alla Madonna. Dentro questo contesto, diciamo così, di navigazione problematica e travagliata. Ed è bellissima la risposta che San Giovanni tutti quanti avremmo colta a suo fratello. Dice stiamo parlando di Gesù, stiamo dicendo ecco, la tempesta si è fermata perché abbiamo obbedito al maestro e tu parli di lei. E lui risponde, lui è in lei e lei è in lui. San Giovanni evangelista. San Giovanni, sapete che anticamente, nella tradizione della Chiesa, è anche chiamato San Giovanni il teologo con la T maiuscola. Il simbolo di San Giovanni è l'aquila, quindi quello che si addentra meglio e più degli altri dentro la conoscenza dei divini misteri. Quindi sappiamo che il Vangelo di San Giovanni parla in maniera teologicamente elevatissima di Maria Santissima. La presenta alle nozze di Cana e sotto la croce. E San Giovanni ha scritto anche il libro dell'Apocalisse, cioè la donna vestita di sole, con tutte quante le significazioni e le implicanze molto importanti di quel brano. Era l'innamorato di Maria ed infatti ha meritato da Gesù, benato lui non soltanto di essere il destinatario della prima consacrazione fatta al cuore immacolato di Maria, che quella l'ha fatta Gesù sulla croce, donna ecco due figli, figlio ecco tua madre, è la prima consacrazione ufficiale al cuore immacolato di Maria. Adesso non approfondiamo questo discorso, se no veramente ci porta via tutta quanta la puntata. Giovanni avrebbe meritato di tenerla con sé a casa, di vivere con lei per lunghi anni e vivere per lunghi anni con Maria è una grazia immensa. Ce l'hanno avuta soltanto Gesù, San Giuseppe è San Giovanni. San Giovanni dice lui è in lei, perché la Madonna è la fotocopia di Gesù, ma attenzione vedrò anche il contrario, lei è in lui. E perché? Lui c'è perché c'è stata lei. È vero che la Savienze si è costruita una casa, cioè la Madonna è stata fatta così come è stata fatta perché doveva diventare la madre di Gesù, la sua abitazione vivente. Ma è anche vero che lui esiste, ha avuto carne perché la Madonna ha detto il suo fiat. A tiro salgono sulla nave di un certo Nicomè del Cretese, pagano e si avviano, nonostante il vento violento, verso Seleucia. Il mare si fa sempre più brutto. Con uno scroscio pauroso parte un pezzo di albero. Mai visto una tempesta così, un'altra ondata spazza il ponte, ricoprendo chi lì è sopra, un altro turbine e un altro pezzo d'albero che parte dopo aver colpito un uomo, aprendogli una ferita dalla tempia alla nuca. Pietro lo raccoglie, lo pone sulla nave e sintica lo cura maternamente, applicandogli l'unguento di Maria, preparato dalla Madonna e pregando. A questa applicazione il sangue diminuisce il suo affluire. Intanto continua a rovinio, mentre la nave si impenna e sprofonda senza sosta. Nicomède, il Cretese, decide di offrire un sacrificio a Venere. Pietro si oppone energicamente, ma Nicomède accende gli insensi e li butta in mare insieme ai liquidi che prima ha offerto a Venere. Le onde però, anziché calmarsi, diventano sempre più furiose e minacciose, trascinando via tutte le bacchieche del rito e per poco lo stesso Nicomède. «Bella risposta ti dà la tua Dea», esclama Pietro. «Ora a noi, anche noi abbiamo una più pura di questa fatta di spuma, ma poi canta Giovanni come ieri e noi ti verremo dietro e vediamo un po'.» «Sì, vediamo un po', risponde Nicomède, ma se accade di peggio vi butto in mare per provvizie vittime». «E va bene», replica Pietro. «Forza Giovanni». E Giovanni intona la sua canzone a Maria, quella già riferita, ave stella del mattino. secondato da tutti gli altri, come anche da Pietro, che di solito non canta mai, stonato com'è. Il cretese con le braccia concerti e un sorriso tra irato e ironico sul volto li guarda. Poi dopo la canzone pregano a braccia aperte, poi cantano più forte e così alternano senza paure, senza interruzione, nonostante le ondate che li schiaffeggiano. Sono sicuri e le onde realmente diminuiscono di violenza piano piano. Il viso del cretese è un poema di stupore. Pietro lo sbircia e non cessa di pregare, Giovanni sorride e canta più forte. Gli altri lo secondano, vincendo il fraguore sempre più nettamente, man mano che il mare si franca in un giusto modo e il vento in un giusto spirare. E ora? Chiede Pietro al cretese. Che ne dici? Ma che avete detto? Chiede il cretese. Che formula è? Quella del dice? Si adora solo Dio, ma niente venere. È Maria, Maria di Nazareth, Maria ebrea, la madre di Gesù, Messia di Israele. Anche questo episodio è un episodio straordinariamente grazioso. La potenza del canto a Maria contro la tempesta nella barca. Ci abbiamo mai pensato quando ci prende qualche cosa, quando c'è qualche grossa rogna, qualche problema. Un bel canto alla Madonna. Un canto d'amore però. Il canto di Giovanni ce lo risentiamo un attimo. È un canto di amore. Ave stella del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo. Quindi è personalizzato. Questo è il canto d'amore proprio di San Giovanni della Madonna. Madre santa di Gesù, spera in te il navigante, sogna a te chi soffre e muore, raggia, stella, santa e pia, a chi t'amo, Maria. Sono belle parole. Pensiamo, ci sono tanti bei canti della Madonna. E proviamo, vi invito a fare questa prova. Quando c'è qualche problema, anche grosso, qualche prova, qualche tempesta, anche grossa. Un bel canto alla Madonna. Beato chi lo canterà con fede e se uno è stonato fa niente. C'è quella bella canzone che si chiama canzoni stonate. Ora passiamo al secondo paragrafo. Quindi abbiamo visto il primo paragrafo di questa nuova sezione. Il fatto dell'associazione di Maria alla distribuzione di tutte le grazie. Quindi qui adesso stiamo studiando, stiamo approfondendo il discorso di Maria, dispensatrice di tutte le grazie. Il secondo paragrafo è il fondamento dell'associazione che è duplice, biblico e dogmatico. Il fondamento biblico. La potenza della meditazione di Maria appare evidente da due fatti del Vangelo. Dalla visita di Maria alla sua parente Elisabetta e dalla intercessione di Maria presso il figlio durante le nozze di Cana. Nel salutare la madre del Signore, Elisabetta fra l'altro dice, alludendo alla grazia della santificazione del Battista nel suo seno. Te benedetta, per aver portato la santità al figlio mio che lo sento, balza come capretto festante di giubilo nel mio seno, perché si sente liberato dal peso della colpa, chiamato ad essere colui che precede, santificato prima della redenzione, dal santo che cresce in te. E Maria confermerà dicendo, la mia presenza aveva santificato il Battista. All'esclamazione di Elisabetta, quanto dolore si deve soffrire per essere madre, Maria lasciami mettere le mani sul tuo seno, la Vergine fa seguire questo commento. O, se nel vostro soffrire mi chiedeste sempre questo, io sono l'eterna portatrice di Gesù. Egli è nel seno mio, come ostia nello stensorio. Chi viene a me, lui trova. Chi a me si appoggia, lui tocca. Chi a me si rivolge, con lui parla. Io sono la sua veste, egli è l'anima mia. Più, più ancora unito, ora di quanto non fosse, nei nove mesi che mi cresceva in seno, il figlio mio è unito alla sua mamma. E si assopisce ogni dolore, fiorisce ogni speranza, e fluisce ogni grazia a chi viene a me e mi posa il suo capo sul seno. Io prego per voi, ricordatevelo. La beatitudine d'essere nel cielo, vivente nel raggio di Dio, non mi smemora dei miei figli che soffrono sulla terra. Ed io prego, tutto il cielo prega, poiché il cielo ama, il cielo è carità che vive. La carità ha pietà di voi. Ma non ci fossi che io, vi sarebbe già sufficiente preghiera per i bisogni di chi spera in Dio. Poiché io non cesso di pregare per voi tutti, santi e malvagi, per dare ai santi la gioia e per dare ai malvagi il pentimento che salva. Venite, venite, figli del mio dolore. Vi attendo ai piedi della croce per darvi grazie. Abbiamo un'altra dritta qui, oltre che cantare a Maria durante le prove, fatevo, eh? Un bel canto alla Madonna e passano tristezze, angosce, dolori, tribolazioni e prove. Qui la Madonna ci dà un'altra dritta, che è quella utilizzata da Santa Elisabetta. Lasciami mettere le mani sul tuo seno. Imparare, questo vale specialmente per le anime consacrate, la Madonna, devota alla Madonna, a cercare proprio la consolazione, il conforto, il ristoro in Maria. Perché chi fa questo trova un conforto e un ristoro e una consolazione duplice. Trova quello, dico lei, che infinitamente ci ama, l'amore della Madonna verso ciascuno dei suoi figli è qualcosa di assolutamente inconcepibile a mente umana. Ma, insieme a lei, trova anche infallibilmente Gesù. Io sono l'eterna portatrice di Gesù. Egli è nel seno mio come ostia nell'ostensorio. Voi sapete, io la sto cercando, se qualcuno la trovasse, ci sono dei bellissimi ostensori, rarissimi da trovare. Ne vedi uno, insomma, ma... realizzato completamente a mano, meglio che non vi dico quello che costa. Ma sono in realtà delle raffigurazioni della Madonna con all'altezza del petto e quella lunetta dove poi si ostende come uno ostensorio tradizionale, il santissimo sacramento. E c'è questa via tradizione, adesso non mi ricordo se l'ha rivelata la Madonna in qualche apparizione o se l'ha detto qualche santo, che in cielo veramente la Madonna si trova con un'ostia incastonata all'altezza del cuore. Sappiamo che nell'ostia c'è la presenza reale di Gesù. Dice, chi viene a me, lui trova. Chi a me si appoggia, lui tocca. Dice, voglio accoccolarmi sul seno di Maria. Vai, tanto accoccolandovi sul seno di Maria, riposerai sul cuore di Gesù. La stessa cosa. Chi a me si volge, con lui parla. Sono parole molto forti queste. Io sono la sua veste, egli è l'anima mia, più più ancora unito ora, di quanto non fosse in nove mesi che mi cresceva in seno. Queste parole che la Madonna dice, dice, ma questa liberazione privata di Maria Valtorte, io non ci credo. Ma sono le stesse identiche cose, proprio spiccicate, che con profonde motivazioni teologiche, profonde e argomentate, tra l'altro, espone San Luigi e Maria Grignone da Mofforte nel trattato della vera devozione a Maria. Tale e quale. Chi a me si volge, con lui parla. Chi viene a me, lui trova. Dica proprio un fallibile. San Luigi ha proprio insegnato la vera devozione alla Madonna, la consagrazione totus tu, stati avvitù d'amore, chiamiamola come vogliamo, perché lui era certissimo che se si va con un'autentica devozione a Maria, sicuramente si trova Gesù. È infallibile. Anzi, è la garanzia migliore per trovare un Gesù vero, non un Gesù taroccato, diciamo così, o rielaborato, o rifatto a nostre immagini e somiglianze. È bellissimo. Vi attendo, piedi della croce, per darvi grazie. Si assopisce ogni dolore, fiorisce ogni speranza e fluisce ogni grazia a chi viene a me e mi posa il suo capo sul seno. Un gesto bellissimo, no? Sono bambini che quando stanno, quando hanno bisogno, quando piangono, insomma, quando ne sentono il bisogno, si abbracciano alla mamma e appoggiano il capo sul seno materno. Un'immagine meravigliosa. Lì, al sicuro. Lì, se piangono, si calmano subito. Questa è una cosa che si può e si deve fare con Maria Santissima, ci ha detto lei, senza nessun timore. Degno di rilievo sono poi le parole rivolte da Zaccaria alla Vergine dopo la nascita del Battista. Dopo che Zaccaria riapre bocca dopo il mutismo abbastanza lungo durato per tutto il tempo della gestazione di San Giovanni, dice Tutte le grazie tu ci hai portato con la tua venuta, perché dove tu vai è piena di grazia, Dio opera i suoi prodigi e sante sono quelle mura in cui tu entri. Sante si fanno le orecchie che intendono la tua voce e le carni che tu tocchi. santi i cuori poiché tu dai grazie. Zaccaria sacerdote dell'Altissimo dell'Antico Testamento lui quando c'era quando c'era l'Annunziazione stava ufficiando appunto come sacerdote nel Tempio. Ora, secondo la letteratura mariana la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta è stata la prima grazia ottenuta da Maria evidentemente operata da Gesù ma per mezzo di Maria nell'ordine spirituale o se si preferisce nell'ordine della grazia. Noi però sappiamo anche che c'è il primo miracolo che Gesù ha fatto in quello che si chiama l'ordine della natura c'è un miracolo sensibile visibile quale le nozze di Cana per mezzo di chi sempre per mezzo di Maria anche queste cose cioè lo dico perché le conosco bene è esattamente la ripetizione di quanto si legge nel trattato della vera devolzione. Fu San Luigi a evidenziare bene che Maria è il segreto per ottenere ogni grazia perché? Perché il primo miracolo in ordine della grazia appunto la santificazione di San Giovanni in Battista nel seno di sua madre Gesù la fece per mezzo di Maria e il primo miracolo nell'ordine della natura l'acqua da assommare in vino nelle nozze di Cana Gesù la fece sempre per mezzo di Maria. Riprendo la lettura del testo la prima della serie delle grazie spirituali la santificazione del Battista sarà dunque concessa per la mediezione di Maria ma anche la prima delle grandi grazie materiali viene concessa per la mediazione di Maria con la conversione dell'acqua in vino alla nozze di Cana all'inizio della vita pubblica. Un giorno mentre Gesù si trova a Bezzanida nella casa di Pietro che gli si presenta Giuda Taddeo suo cugino e gli dice vengo da Cafarnao vi sono andato con una barca e qui pure sono venuto con essa per fare più presto mi manda tua madre e dice Susanna è sposa domani io ti prego figlio di essere a queste nozze Maria vi prende parte e collera madre mia ai fratelli tutti i parenti vi sono invitati tu solo saresti assente ed essi i parenti ti chiedono di far contenti gli sposi Gesù si inchina liberamente avrendo un po' con le braccia e dice il desiderio di mia madre è mia legge ma anche per Susanna e i parenti verrò una breve sosta il desiderio di mia madre è mia legge e richiamano le parole dette prima no? la guarigione di quel bambino presentato dalle braccia di Maria stava sulle braccia di mia madre e io la voglio fare felice il desiderio di mia madre è legge quando a Gesù la Madonna rivolge qualche richiesta qualche desiderio qualche cosa se ci è concesso di parlare in questo modo senza evidentemente vorrei essere irriguardosi è come se Gesù non capisse più niente se mi ha detto che la madre basta non nega grazie alla madre per questo penso che l'abbiamo sentito dire in qualche modo lo conosciamo in teologia e mariologia da tanti santi da tanti santi mariologi la Madonna è chiamata l'onnipotente per grazia che significa significa che non è onnipotente per natura prima perché i miracoli lei non li può fare ma li può tenere da Dio e secondo perché in se stessa quindi non è in grado né di fargli miracoli né di fargli tutti quelli che vuole come vuole e quando vuole questo è proprio della divinità è onnipotente per grazia perché perché tutto può onnipotente sul cuore di suo figlio ecco e certamente questo dipende dalla grazia stessa che ha ricevuto e dalle grazie però che le stesse ottiene quindi non è onnipotente per natura come l'altissimo ma viene chiamata onnipotente per grazia perché o da qualcun altro viene chiamato viene chiamata Maria Santissima l'onnipotenza supplice cioè che sembra una contraddizione in termini perché uno che può fare qualunque cosa è potentissimo non ha bisogno di supplicare nessuno ecco no la Madonna non può fare qualunque cosa perché la Madonna non è il Padre Eterno è l'onnipotenza però supplice cioè lei supplica e supplicando ottiene qualunque grazia che chiede presso l'altissimo e come vedremo però è meglio che ci aggiorniamo alla prossima puntata perché adesso l'episodio delle nostre di cane è molto ampio per cui o lo facciamo con troppa velocità quindi leggendo con troppa velocità e limitando al minimo i commenti ma non mi sembra il caso oppure tanto qui siamo ancora nell'introduzione ci salutiamo e quando poi tratteremo questo argomento quando ci rincontriamo la prossima settimana tratteremo questo argomento con l'attenzione e con la considerazione più ampia che merita quindi per oggi fermiamoci qui ecco portandoci dietro questa espressione di Gesù desiderio di mia madre è mia legge è anche quella che abbiamo sentito dire prima ella è felice quando può consolare una frizione ed io la voglio fare felice bene se Dio vuole appuntamento alla prossima settimana la mia benedizione su tutti alla prossima Ave Maria